Adesso abbiamo di fronte e vedremo, perché in queste ore ne stiamo discutendo, con quali misure l'esigenza di adottare dei provvedimenti più stringenti per permettere alle nostre famiglie di stare insieme a Natale, per permettere ai nostri concittadini di vivere, ai nostri commercianti, ai nostri imprenditori, di vivere un Natale sereno. Questo sia anche un modo di passare un Natale sereno. Un Natale sereno è anche un Natale in sicurezza. Un Natale sereno in sicurezza è quello nel quale gli individui, le persone, noi adottiamo dei comportamenti che ci permettono di non aver paura di quello che accadrà il 28 dicembre, il 4 gennaio o il 10 gennaio, quando il rischio della curva che sale potrebbe ripresentarsi. L'Italia, proprio nei momenti più difficili, riesce sempre a dimostrare la propria coesione e la propria forza. Se in questo mese di novembre rispetteremo tutti queste nuove regole, riusciremo a tenere la curva epidemiologica sotto controllo. Riusciremo così poi ad allentare le misure e affrontare dicembre e ci auguriamo le festività natalizie con maggiore serenità. E ci auguriamo le festività natalizie con maggiore serenità.